benvenuti da Luigi Pistone per Radio Nof oggi siamo in compagnia di eh del segretario della UAR e qui sicuramente adesso eh per citare l'ex magistrato di Pietro probabilmente non azzeccherò l'accento tonico sul cognome del mio e del nostro ospite Roberto Grandene ho detto bene? Ha detto benissimo una volta tanto sono riuscito da azzeccare questo 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 accento tonico benvenuto sul sul Radio Nof se vuole dare un saluto a tutti i nostri eh internauti ascoltatori e visitatori lo faccio pure. Sì grazie grazie dell'invito grazie innanzitutto a lei Luigi Pistone e naturalmente a tutti gli ascoltatori eh telespettatori internauti che ci vedono e ci vedranno. Allora l'acronimo U A A R sta per unione degli atei e degli agnostici razionalisti è un'associazione di promozione sociale che eh si batte per i diritti civili dei non credenti e per la concreta affermazione della laicità dello Stato e qui tocchiamo un altro argomento molto importante perché noi siamo in uno Stato laico almeno sulla carta almeno sulla carta. In queste settimane sta portando il UAR un un una campagna in tutta Italia attraverso manifesti, incontri e altro sull'aborto farmacologico una conquista da difendere. La frase esatta è aborto farmacologico una conquista da difendere. L'ultima delle sue campagne per i diritti civili laici. Altre informazioni sull'associazione si possono trovare su www.uaar.it ripeto www.u.inconaroma.it Roberto Grendene, 54 anni, una laurea in matematica e attivista UAR dal 2006, quando diventa coordinatore del circolo UAR di Bologna. Quindi ricopre gli incarichi nazionali di responsabile per la comunicazione con i soci, delle campagne e degli eventi. È segretario nazionale del UAR da maggio 2019. 2021 tra un po' sono due anni, giusto? Esatto. Possiamo iniziare con le domande segretario. Quindi la cronica UAR sta per gli atei e gli agnostici razionalisti, ma quali sono gli scopi dell'associazione e quali contributi ha portato negli oltre 30 anni di vita? Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come ha detto UAR sta per unione degli atei e degli agnostici razionalisti, dove razionalisti è semplicemente un aggettivo che contraddistingue gli atei e gli agnostici, ossia siamo un'associazione di promozione sociale che vuole tutelare i diritti civili dei cittadini agnostici e in generale difendere e valorizzare le concezioni di vita che si basano su valori esclusivamente umani, che non hanno a che fare diciamo col soprannaturale, che possa essere l'esistenza di divinità o anche di credenze come i fantasmi o le credenze anche più spicciole come l'astrologia o cose del genere. Quindi un approccio razionale non religioso all'esistenza basato su valori esclusivamente umani. Ma visto che abbiamo parlato di scopi dell'associazione, visto che siamo un'associazione di promozione sociale, li elenco brevemente. interrompo solo un attimo. Vogliamo dire la differenza tra ateo e agnostico? L'ateo non crede. L'agnostico? Ma diciamo, in realtà, di fronte alla domanda, credi in Dio, sia l'ateo che l'agnostico? Rispondono no, non ci credo. Poi le sfumature sono diverse. Sono diverse. Perché l'ateo non crede proprio. L'agnostico è una sorta di San Tommaso. Cioè, non crede, vorrebbe vedere, per capire e cercare di trovare una soluzione a qualche dubbio che ha. Però sostanzialmente non crede. Ho voluto farle questa domanda quasi tra bocchetto, però era per dare una spiegazione a chi ci ascolta. Poi, razionalista, razionale, quindi deriva da essere razionale. Dall'uso della ragione nell'approcciare i problemi della vita, che ovviamente non vuol dire vivere senza fantasia, senza emozioni, ma è un approccio usando la ragione, quindi godere. È una concezione quasi cartesiana di Descartes. Penso, quindi, io sono positivista, perché soltanto sull'atto pratico che io creo e genero una riflessione, un credo. In realtà diciamo che ci sono mille, per dire forse milioni, di modi di vivere il proprio approccio con la domanda perché sono su questo pianeta della Via Lattea. E allora a queste risposte queste risposte possono essere appunto mille, sia dall'ateo che crede perché addirittura pensa di aver trovato la prova. Ecco, questo è un po' estremo come approccio. Sia l'agnostico che è dubbioso e dice chissà, forse c'è, forse non c'è. Ma in mezzo a questo fronte ci sono tantissime sfumature. Le faccio il mio esempio personale. Io mi definisco sia ateo che agnotico, a seconda della circostanza. Ateo nella vita di tutti i giorni, cioè così come rispondo a Babbo Natale non esiste, rispondo anche Dio che non esiste. Invece è agnostico, agnostico dal punto di vista puramente logico e magari anche scientifico. Io appunto ho una preparazione scientifica e quindi l'approccio ai problemi si basa sulla buona definizione del problema. Se un problema non è ben definito, io diciamo esagerando, non perdo tempo, cioè dico quando mi presentate un argomento ben definito ne parliamo, adesso non mi interessa, non è di mia competenza dal punto di vista logico e razionale. Io non ho fatto studi scientifici perché sono un sociologo, però mi trovo anch'io in una situazione perché sono a contatto con la realtà e quindi avendo a che fare con la realtà non posso perdermi in dogmi che hanno poco a che fare con quelle che sono le situazioni contingenti del vivere civile. Ma torniamo alla domanda. Quindi scopi dell'associazione contributi che ha portato in questi trent'anni. Prego e mi scusi per l'interruzione. No, volentieri, anzi un po' di interazione fa bene al dialogo. Gli scopi sono quattro. La difesa dei diritti civili dei cittadini atei agnostici. Il secondo è l'affermazione concreta del supremo principio della laicità dello Stato e quindi di conseguenza l'abolizione di privilegi accordati o di diritto o di fatto su base religiosa. Il terzo scopo è quello di affermare nel quadro di una concezione razionale non religiosa dell'esistenza i cosiddetti diritti civili laici, ossia l'autodeterminazione dell'individuo. Mi riferisco in particolare sia all'interruzione volontaria di gravidanza che anche alla procreazione medicalmente assistita. Quindi sia non avere, non volere una gravidanza, sia invece cercarla e usare la ricerca scientifica per questo, ma anche contrarre l'unione civile. Anzi, il nostro scopo sarebbe il matrimonio ugualitario, ma anche, e andiamo verso la fine dell'esistenza, l'autodeterminazione del fine vita. Quindi la vita di chi è la mia vita è mia e quindi dovrei poter avere voce in capitolo e quindi avere il diritto di uscire dignitosamente o secondo quello che è il mio concetto di dignità da questo mondo che per noi è anche l'unico e per questo appunto vale la pena di, diciamo, lottare, un termine forse forte, ma per una convivenza pacifica. E l'ultimo scopo sociale è quello di promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiosi, che significa anche banalmente far uscire e abbattere lo stigma che molto spesso, in particolare in alcuni contesti, provincia, profondo nord, profondo sud, affligge ancora le persone che non credono, perché il senza Dio, essere senza Dio molto spesso è discriminatorio in quanto socialmente non accettato, si è al di fuori di certi margini morali, si può dire, e per assurdo siamo in una società in cui anche le inchieste sociologiche, il maggior sociologo in Italia su questo fronte, Franco Garelli, in una ricerca recentemente pubblicata e finanziata con 100 mila euro dalla CEI, quindi dai Vescovi, ha detto che sta esplodendo il fenomeno della non credenza, addirittura lui parla di 30% di popolazione non credente in Italia. La nostra inchiesta, che invece abbiamo pagato molto meno, però fatta dalla DOXA, parla di un 15% di atei gnostici, ma concordiamo sul fatto che le nuove generazioni sono in larga parte non credenti. Anche il recente sondaggio Istat, la ricerca Istat durante il lockdown ha mostrato che siamo al 50% di circa di persone che non hanno mai pregato durante il lockdown, cioè una situazione di grande stress e di grande sofferenza, quindi ci si rivolge maggiormente magari alla scienza a un approccio razionale dei problemi rispetto a ricorrere a una preghiera che può essere sicuramente consolatoria, il diritto alla libertà di culto è fuori discussione, però non dà magari le risposte che nel terzo millennio ci si aspetta. Se posso accennare brevemente ad alcuni contributi, ad alcuni punti a favore dell'esistenza dell'UAR, noi diciamo nel nostro manifesto di intenti che un'associazione come l'UAR in un paese migliore non dovrebbe nemmeno esistere perché l'uguaglianza tra credenti e non credenti sarebbe già rispettata, basterebbe l'articolo 3 della Costituzione, purtroppo c'è bisogno di questo e per cui abbiamo, siamo magari conosciuti per un'iniziativa legale del 1999 che è volgarmente chiamata sbattezzo, dico volgarmente perché fu un nome voluto proprio dai vescovi per denigrare questa vittoria che invece banalmente un diritto riconosciuto da trattati internazionali per la tutela della propria reputazione e per il diritto di uscire da un'organizzazione alla quale non si vuole appartenere, perché in Italia come sappiamo anche dal punto di vista civile l'appartenenza religiosa, l'appartenenza alla chiesa cattolica è riconosciuta in funzione dello sbattezzo, sei suddito perché battezzato, questa è una frase che compare in una sentenza della Repubblica Italiana del 1958 ma ancora non contraddetta, mi riferisco al noto almeno per alcuni casi dei concubini di Prato che causò appunto la reazione anche di Aldo Capitini, quindi il fondatore della Marcia Perugia Assisi che proprio disse beh io allora non voglio più essere battezzato considerato appartenente alla chiesa se queste sono le conseguenze, per cui abbiamo vinto di fronte al garante della privacy un'iniziativa legale per la quale appunto ci si può fare formale apostasia con una lettera raccomandata da indirizzare alla parrocchia presso la quale si subì il battesimo, ma a noi si evolgono anche per questa, per l'assistenza legale legata a questa pratica anche fedeli di altre confessioni, cioè tanti anabattisti ci hanno chiesto come uscire dalla chiesa perché volevano tutelare la propria reputazione, la fin fine è l'affermazione di un diritto di non appartenere a un'organizzazione, può essere un partito, può essere l'associazione degli scacchi se non si condivide più l'ideale di quel partito o la passione per gli scacchi, è anche una questione normale. Poi c'è anche chiaramente invece una battaglia personale e politica di dare un forte segnale perché in certe circostanze le nostre domande di sbattezzo vediamo che salgono, salirono tanto quando fu eletto Ratzinger, salirono tanto quando Napolitano difese il diritto di Eluane Englaro di avere una morta dignitosa, quindi c'è anche una reazione politica. Se veniamo ai tempi più recenti, anzi andiamo al 2010, una splendida iniziativa legale vinta da loro fu quella per il diritto all'ora alternativa, c'era in una scuola di Padova una bambina che veniva smistata in altre classi come un pacchetto postale per cinque anni, perché? Perché i genitori avevano chiesto di non seguire l'insegnamento della religione cattolica ma di avere il diritto all'ora alternativa. Abbiamo tenuto questa vittoria legale che addirittura l'anno dopo fece dire con una nota congiunta dal Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze che è un diritto conclamato l'ora alternativa e le scuole che non l'attivano le dono il diritto all'istruzione e alla libertà religiosa, che come sappiamo include anche la libertà dalla religione. Comunque le attività alternative oramai sono in tutte le scuole. il problema semmai si pone perché molte volte gli insegnanti o le insegnanti, i professori eccetera, che hanno il turno di attività alternativa non sanno cosa fare con i ragazzi, che materia. E poi si pone un altro problema, siccome ormai stiamo diventando sempre più multietnica, quindi abbiamo chi crede in un altro Dio, chi addirittura invece ha i genitori atei e non hanno voluto che il figlio seguisse l'ora di religione e quindi fa attività alternativa. Poi ci sono mille rivoli all'interno della Chiesa, che consideriamo la Chiesa Cattolica, perché Cristo non ha mai parlato di una Chiesa, tant'è che i Francescani posero una domanda al Papa, ma Gesù era padrone dei suoi vestiti? Era un chiara, una chiarissima botta, come si vuol dire, alle ricchezze dello Stato Vaticano, perché Cristo predicava la povertà in povertà e la povertà e la misericordia. Invece oggi vi troviamo di fronte a una Chiesa che è uno degli stati più ricchi forse al mondo, però ha sempre determinati punti di vista, non a caso abbiamo le virazioni di alcune statue che stanno sotto i portici del Vaticano, sostituite poi con delle foglie, perché era un oltraggio, era pubblico ludibrio, insomma delle visioni molto zandamenti contorte, c'è anche sull'arte, quindi sulla Venere, Anadio, Venere e Botticelli se noi gli mettiamo una bella tunica, così chiudiamo la vicenda. seconda domanda, Roma, Perugia, Cuneo, Domodossola, Ragusa, Savona, Palermo, Rimini, Pescara, Catania, Bologna, Ancona, Milano, sono solo alcune città dove lo ha portato in questi giorni i manifesti della sua ultima campagna, aborto farmacologico, una conquista da difendere, che punta a fare informazione sulla pillola RU486, una pillola, un farmaco conosciutissimo da tutte le donne e anche da noi maschi, perché a volte siamo andati anche noi in farmacia a prenderla, non parlo del mio caso, ma parlo in generale, proprio per un diritto della donna a decidere sul da farsi, senza la necessità di ricopere ospedaliero, quindi è una grande conquista, ma delle conquiste se sono state fatte, già è fatto di decidere il cognome da dare al figlio, se del padre o della madre, adesso anche sulle adozioni bisognerà vedere che passi in avanti si taranno, è vero che siamo il paese che ospita il Papa e quindi lo Stato Vaticano e quindi subiamo dei condizionamenti sociali, chiaramente, e anche legislativi che fanno un po' a botte con quello che il pensiero semmai di una parte della popolazione, però così sanno le cose. E quindi stiamo dicendo una conquista da difendere, la pillola RU486 è un diritto di scelta delle donne sull'avorto. In Italia nel 2021 c'è ancora bisogno di difendere un diritto introdotto nel 1978 con la famosa legge 194? E la risposta è purtroppo sì, purtroppo ce n'è ancora bisogno, innanzitutto perché già la legge 194 del 78, chiaramente quando fu introdotta fu una rivoluzione, una rivoluzione e una liberazione per tante donne, ma aveva e purtroppo ha ancora dei problemi, perché ha introdusse l'obiezione di coscienza, per dire che aveva senso allora, aveva senso, c'erano ginecologhi, c'erano specializzanti che avevano scelto quella professione, quindi gli si trovavano cambiate le carte in tavola. Posso interromperla un attimo, la interrombo, mi dispiace che la interrompo spesso, però io conosco per esempio dei medici che facevano interruzioni di gravidanza e sono entrati in ospedale, perché in ospedale c'erano troppi obiettori e quindi mancavano medici per praticare l'interruzione di gravidanza. Sono entrati, una volta sistemati in ospedale, sono diventati obiettori. Prego, continuo. No, ma infatti questo è uno dei tipici problemi, cioè chi non è obiettore dice comunque di esserlo e diventa obiettore e questo cosa comporta? Una limitazione concreta, una rappresaglia nei confronti delle donne. Se entri in ospedale come obiettore c'è una cosa, ma se entri per l'interruzione di gravidanza tu la fai finché non vai in pensione. Esatto, e proprio questo, infatti dal nostro punto di vista, ripeto, 43 anni dopo l'introduzione di questa legge, semplicemente non dovrebbe essere più ammessa l'obiezione di coscienza nei reparti di ginecologia della sanità pubblica. Se uno vuole fare l'obiettore nel privato, può farlo. Se uno vuole fare l'obiettore e fare il dentista, può farlo. Ma perché proprio assumere addirittura chi si dichiara o chi dopo cambierà la propria scelta e diventa obiettore? Io metterei una clausola sul contratto. Io ti assumo per l'interruzione e la devi fare a vita. Cioè non puoi cambiare idea. E infatti è questo dovrebbe essere... Perché se lo fai per un fatto puramente utilitaristico, perché aspetti l'ufficializzazione dell'assunzione per poi diventare obiettore, tu privi l'ospedale di un servizio che è sancito dalla legge. Quindi che torniamo all'aborto clandestino, quindi alla mammana, quindi alle pombe di bicicletta, ai ferri delle calze, con rischi di emorragia e tutto il resto. Ma stiamo scherzando? Siamo nel ventunesimo secolo siamo. Sì, infatti sia nel caso che ha illustrato lei, ossia chi lo fa in modo strumentale, ma anche chi lo fa, l'obiezione di coscienza, chi la pratica, perché davvero ci crede, la scelta è semplice, faccia qualcos'altro. Cioè non vada a fare il ginecologo. C'è molta terra da zappare dal mio punto di vista. Quindi con tutto il rispetto per i contadini che fanno un lavoro ingrato, perché lavorano la mattina e la sera per raccogliere i frutti dalla terra. Però se loro non hanno questa intenzione, facessero altro. Si aprono uno studio privato e fanno quello che vogliono fare nel privato, ma nel pubblico se entri con una qualifica la devi tenere fino alla fine. Non puoi cambiare idea. Sì, diciamo, è un po' come entrare nell'esercito e puoi dire io non imbraccerò mai e poi mai un'arma, non userò questo. E allora... Esattamente, la questione è semplice. Ma tornando alla domanda, c'è quindi bisogno di fare informazione sulla pillola RU486? Che la pillola RU486, ossia la pillola abortiva, diversa dalla pillola del giorno dopo dei cinque giorni dopo? Sì, delle 48 ore o dei cinque giorni dopo? Esatto. Va fatta entro, vogliamo dirlo, la RU486 si può prendere entro le 8-9 settimane? Allora, esatto, diciamo, fino a agosto 2020, l'Italia, unico paese, diciamo, civilizzato o comunque occidentale, aveva al limite delle sei settimane. Ah, sei! E aveva, no, questo fino ad agosto 2020, e poi aveva anche, di nuovo, unico paese o fanalino di coda, aveva anche l'obbligo del ricovero per tre giorni. Finalmente, nell'agosto 2020, il Ministero della Salute ha recepito delle linee guida, le ha cambiate e ha dato delle nuove linee guida, adeguandosi al mondo esterno, non solo a un paese, diciamo, influenzato, come abbiamo detto dal Vaticano, e ha spostato alle 9 settimane l'assunzione della pillola abortiva. Senza necessità? Esattamente, senza l'obbligo del ricovero. Del ricovero ospedaliero. Esattamente. Abbiamo purtroppo delle regioni, governate dalla destra, in particolare dalla Lega, che si sono opposte al recepimento di queste linee guida. Sono l'Umbria, sono le Marche, e adesso mi sfugge la terza, e che hanno invece, cercano di impedire l'adozione di che cosa? La possibilità di dare la scelta alle donne. Quindi, se una donna, consigliata ovviamente da un medico, per una donna, è cons che vuole interrompere la gravidanza, si prospetta la possibilità di farlo, senza i ferri del chirurgo, senza il ricovero ospedaliero, perché mai non permetteglielo. Visto che... Ma i numeri nelle Marche stanno ostacolando questo processo, e le Marche mi sorprendono. Io ci ho studiato, e sono sempre state, insomma, all'avanguardia, e poi sempre per una visione molto laica delle cose. Forse è cambiato il governo, e quindi della regione, e quindi è cambiata anche l'idea. Eh, ma purtroppo la politica ha altre sponde a cui si appoggia, riceve pressioni, o semplicemente già nel 1978 e il successivo referendum si vide che la maggioranza era a favore, quindi, e in quella maggioranza c'erano sicuramente milioni di credenti, cioè, per cui ci si trova d'accordo sui diritti civili laici, a prescindere dalla concezione del mondo alla quale si aderisce. Quindi, anche adesso, non vogliono mettere in discussione gli integralisti, in particolare i clericali in politica, il diritto all'avorto. Però cosa fanno? Introducono le rappresaglie. La rappresaglia è quella dell'obbligo del ricovero. La rappresaglia è quella di dire, no, devi operarti. Ma che senso ha tra l'altro in un periodo di pandemia dove sarebbe bene non intasare gli ospedali? Ma comunque... E sarebbe anche bene evitarlo, perché in ogni caso parliamo di ambienti che non sono proprio adatti. E poi c'è anche un altro fatto. Personalmente io penso che tutti abbiano diritto a pari opportunità e pari dignità. Cioè, come le donne chiedono pari opportunità e pari dignità in politica e vogliono anche le quote rosa, io dico che le quote rosa sono contrario, perché si è eletti per consenso, non per diritto perché sei una donna o perché sei un uomo. E poi se hai parità di opportunità tu la devi dare anche ad altri che la pensano diversamente da una collettività o da una parte della collettività. Diciamo, sulle quote rosa io faccio un discorso forse che è a monte. Cioè, il problema è che abbiamo una società che non permette di avere pari diritti, che considera ancora la donna, così, angelo del focolare. Forse è questo che andrebbe cambiato. Sì, ancora retro, molto retro. L'altra metà del cielo viene considerata ancora la donna che deve stare a casa e non può avere una carriera, siamo d'accordo. La scuola italiana non solo non prevede in maniera strutturata l'educazione sessuale, parliamo da, adesso parliamo di un'altra cosa, ma sembra inerente. Ma ancora oggi presenta nell'orario scolastico l'insegnamento della religione cattolica, però. Come la pensa Loire al riguardo e non ritiene che l'istruzione religiosa dovrebbe essere garantita nella scuola pubblica? Perché non dovrebbe essere garantita? Ma infatti bisogna capire di che insegnamento si sta parlando, perché l'insegnamento della religione cattolica, come ha precisato, non è fatto in base a dei programmi laici che si basano su, diciamo, una ricerca scientifica indipendente. È, per legge, derivante dal concordato, impartito in conformità della dottrina della Chiesa. Quindi è un insegnamento dottrinale. Primo punto. Secondo, da chi è impartito? Da persone scelte dal Vescovo, a suo insindicabile giudizio. Quindi, ancorché ci sono dei concorsi farsa. Dico farsa perché? Perché per accedere bisogna avere l'autorizzazione del Vescovo. Quindi, se non è zuppa, è pan bagnato. Per cui abbiamo ventici, anzi, ventiseimila insegnanti nella scuola pubblica che sono scelti dal Vescovo per impartire insegnamenti confessionali. Insegnamenti conformi alla dottrina della Chiesa. È questo tipo di insegnamento che non può essere accettato. Non può essere accettato perché, e mi rifaccio a un accenno che c'è stato fatto prima. Perché i bambini, i ragazzini dovrebbero essere lasciati liberi di scegliere da grandi. Che è una nostra campagna, che non so se si vede, che è proprio questa. Sì, se la allontana poco poco dallo schermo si regge meglio. Sì, perfetto. Io faccio anche un riferimento storico a questo punto che è delle scritture della Chiesa Cattolica. Gesù Cristo è stato battezzato da Giovanni Battista in età adulta, non quando era bambino. E diciamo, questo è infatti un altro tema, il pedobattesimo. Storicamente, come ha detto lei, il battesimo si faceva in età adulta, non solo, dopo un percorso, il catecumenato, se non sbaglio, che prevedeva un approccio e quindi una scelta consapevole. Questa scelta consapevole è stata totalmente abolita nei secoli successivi, nei recenti secoli. E cosa è stato fatto? È stata sempre anticipata questa iscrizione, una volta battezzati in certi momenti, voleva dire appartenere alla Chiesa, come ho detto prima, sudditi perché battezzati. Ancora adesso il catechismo recita che il battezzato non appartiene più a se stesso, ma è ubbidiente, sottomesso ai capi della Chiesa. Ecco, questo è scritto oggi nel catechismo di Bergoglio, non in quello di Pionone. No, ci sta, visto che prima ho criticato le scelte di certe formazioni di destra, ad esempio le rappresaglie in tema di aborto, e aborto farmacologico in particolare, c'è anche da, faccio un accenno anche al fatto che la sinistra molto spesso si trova in questi anni infatuata, io uso un termine a volte un poco magari politically correct, rimbergoglita, perché pensa che questo Papa sia la soluzione di tutti i mali, quando ancora oggi, anzi, ha detto per tre volte che le donne che abortiscono sono delle assassine che assoldano dei sicari, quindi i medici che le aiutano, assoldano dei sicari per far fuori un bambino. Ora, questo è, diciamo, il tema, e poi, diciamo, Bergoglio non ha cambiato di una virgola la dottrina, ma questo può essere un problema, diciamo, del club, della chiesa a cui chi sceglie liberamente di accedere accetta le regole. Purtroppo, appunto, all'influenza ci sono le ingerenze nella politica, e questo che è un problema, perché ancora oggi le donne non occupano, non possono per diritto divino occupare dei posti di potere nella chiesa, cioè è un'organizzazione multimilliardaria, come è stato detto, non democratica, che limita i diritti delle donne e addirittura scrive cose Cosa che invece non avviene nella religione protestante, dove le donne hanno, non moltissimo, però hanno un po' più di spazio e possono anche addirittura dare sacramenti e dire messa. Ad esempio, la chiesa metodista vallese in Italia ha i pastori e le pastore, ha anche avuto, non so se c'è ancora la presidente, forse mi sbaglio il termine, della tavola valdese, che è l'organismo nazionale, che è stata, che era o è stata una donna, però non tutto il mondo protestante è uguale. Se guardiamo gli stessi metodisti negli Stati Uniti, quindi metodisti valdesi in Italia, metodisti negli Stati Uniti, vediamo che invece là sono dei grandi integralisti, per cui dipende molto dai tempi e addirittura dalla zona geografica, dai contesti e anche dall'Europa. Sì sì, per cui bisognerebbe misurare concretamente, se tu, faccio un esempio, finanziamento pubblico, perché devo finanziare con soldi pubblici la scuola privata, ancorché si dica paritaria, se ha un insegnamento, un orientamento religioso che, come ho detto, nega diritti alle donne e critica con parole dure nel catechismo le persone LGBT, per non parlare di chi invece non crede che anche lì c'è le impietà. Io personalmente sono il contrario ai finanziamenti pubblici, non soltanto alle scuole, ma anche altri settori. Siccome tempo stringi o devi andare avanti, veniamo all'attualità, parliamo anche di politica, morto un papa se ne fa un altro, e uscerò anche un'altra parola, sempre in tema di religione. Veniamo all'attualità, il governo Draghi è stato acclamato come il governo dei migliori, questo vedremo, il tempo vedrà, vedremo a chi darà ragione, e Luar si aspetta qualche miracolo nei provvedimenti che potrà varare? Allora, quando si è insediato il governo Draghi dalle mie parti, dalle parti di Bologna nevicava, allora noi ho firmato un articolo sul nostro blog nazionale, il nostro blog si chiama A Ragion Veduta, che si intitolava Nevica Governo CL, perché se andiamo a vedere le scelte che sono state fatte dal governo Draghi, sono tutte un recupero di personalità, di personaggi, che hanno fatto, 13 su 25 dei ministri, hanno fatto comparsate, discorsi naturalmente ossequiosi al meeting di Comunione Liberazione. E quindi la scelta concreta che c'è stata... E' un'altra setta di potere, Comunione Liberazione. E certo, girano molti soldi pubblici quando c'è la compagnia delle opere o... E se sei un cielino hai anche delle strade aperte ai... rispetto ad altri che non le hanno, però hanno le capacità, hanno le potenzialità e hanno anche gli studi. E hanno anche le condanne però, cioè diciamo formigoni, ora magari se ne parla poco, però ha avuto le sue pesanti condanne. Quindi la prima misura che abbiamo fatto al governo Draghi è questa, riesumare una serie di personaggi che hanno avuto come nel loro curriculum, la partecipazione e l'amicizia del meeting DCL, 13 su 25, con addirittura alcuni come... Beh, prendiamo il top, il top è stato Marta Cartabia, dieci volte è andata al meeting DCL e naturalmente non portando posizioni critiche, ma portando posizioni ossequiose. Non solo, è stato riproposta da decenni che non figurava Maria Stella Gelmini, nota per il suo sostegno alle scuole private cattoliche e anche per la sua esibizione nel cantare Tu scendi dalle stelle, perché? Perché una scuola aveva usato dire che non era il caso di fare canti liturgici durante l'orario scolastico. Ha portato, dopo nemmeno tre giorni dalle sue dimissioni, visto che facciamo un parallelo economici, i tre giorni per risuscitare dalle dimissioni, ha portato Elena Bonetti, che è stata ministra ed è ancora ministra delle pari opportunità, ma cosa ha fatto? Oltre al sostegno anche lei alle scuole private paritarie, ha portato nella task force per il... donne per il nuovo rinascimento, chi? Una suora che è consigliera dello stato della città del Vaticano, quindi non tanto una suora, si potrebbe dire, magari è una suora che è contestatrice, no, è una suora che è consigliera di città del Vaticano, sia di che cosa, di un'organizzazione che strutturalmente discrimina le donne, è che questi tipi di scelte sono un po' imbarazzanti. Quindi ci aspettiamo miracoli, è stato detto, mi ha chiesto in modo un po' ironico, beh miracoli no, però se usiamo questa parola abbiamo sicuramente un'autorità finanziaria ed economica, Draghi, è un europeista convinto, beh ci si aspetterebbe che esigesse i 4-5 miliardi di arretrato ICI che la chiesa deve allo stato italiano ed è una sentenza che arriva dall'Europa. Perché ricordiamolo, la chiesa non la paga la tassa ICI sulle proprie proprietà nello stato italiano, non la paga. Sicuramente questi 4-5 miliardi derivano da un'evasione riconosciuta anche dalle corte di giustizia europea, quindi si è arrivati ai massimi gradi per gli anni, mi sembra siano dal 2006 al 2011, quando non poteva non pagarla, diciamo, perché era stato fatto un accrocchio perché non la pagasse ma che non reggeva. Adesso c'è una legislazione molto complicata, voluta da Monti, per cui si va a valutare la preponderante attività di culto o meno e quindi bisognerebbe fare, è sicuramente molto complicato, ma abbiamo dei casi che sono arrivati in tassazione di ad esempio scuole private che non volevano pagarle perché dicevano che erano esempi, invece hanno perso la causa perché dovevano pagare le tasse come gli altri al pari di un'altra scuola privata. Infatti la causa fu intentata da un concorrente di quella scuola che diceva come io devo pagare l'imposte e tu solo perché hai un orientamento religioso o no e quindi abbiamo sicuramente un danno economico ai danni della fiscalità generale, noi abbiamo quantificato nella nostra inchiesta i costi della chiesa in 6,7 miliardi l'anno, di cui ci sono una cinquantina di voci diverse. 6,7 miliardi di euro all'anno si può dire che è il PIL di Cuba, si può dire? Ma sì, una manovra finanziaria, poi c'è l'ingiustizia di fondo e poi 6,7 sono una stima cautelativa, non abbiamo voluto esagerare, circolano anche altre stime, noi ci siamo attenuti ai dati di fatto, non a quelli su cui non abbiamo potuto investigare. Noi non stiamo, io voglio precisare, per chi ci sta ascoltando, la nostra non è una crociata, perché è un termine caro, alla chiesa, contro la chiesa, è soltanto per una rivendicazione, la vostra, di pari opportunità e dignità, diritti e doveri in una società multietnica e soprattutto laica, giusto segretario? Ha riassunto benissimo, noi ci battiamo per l'uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini e delle loro organizzazioni senza discriminazione sulla base delle convinzioni filosofiche e religiose che possono avere. Insomma l'articolo 3 della Costituzione senza cadere invece nel trabocchetto del relitto fascista, che è l'articolo 7, quello che dice che le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Chiesa sono regolate dai patti lateranensi, dal concordamento. Lateranensi fatti da Mussolini e poi rifatti da Craxi rinnovati. Rinnovati con dei pro e pochi pro e tanti contro, l'unico pro è stato che è stata abolita la religione di Stato che fino al 1984 la Repubblica Italiana aveva, però è stato introdotto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, cioè dai 3 ai 5 anni. Che cose che nemmeno le catechizioni... E io faccio un paragone che forse lei mi dirà c'entra poco. Soltanto quest'anno è stato riinserito nei programmi scolastici l'argomento educazione civica, che era stata eliminata dalla... vabbè, la Germini ha fatto la riforma forse la peggiore nella storia, tant'è che io rimpiango la riforma gentile. Pur non essendo... e per giunta gentile non era fascista, chiariamolo storicamente, perché Mussolini aveva l'intelligenza di... in certe situazioni di circondarsi di intelligenze, non di adepti. Poi passiamo all'ultima domanda perché il tempo è passato quasi un'ora. Deluar è il progetto editoriale Nessun Dogma, che ha anche ricevuto uno speciale premio dal Ministero dei Beni Culturali. Anche la sua rivista associativa si chiama Nessun Dogma. Sono queste le leve con cui Luar intende affrontare in maniera più approfondita gli aspetti culturali che riguardano le prospettive di vita e soprattutto di divinità. e di divinità. Sì, diciamo che l'approccio culturale... Quindi bride del soprannaturale, eccetera. Vabbè, mi ha compreso chiarissimo, sicuro. Sì, sì, diciamo, oltre alle battaglie anche con iniziative giuridiche e campagne di promozione sociale, con manifesti, usando solo i soldi che ci danno i sostenitori, e quindi i soci e anche i semplici sostenitori che non sono soci. Quindi con le nostre risorse facciamo campagne di sensibilizzazione che sono chiaramente costose, ma affrontiamo anche da un punto di vista più culturale, quindi libri e riviste, ma anche il blog nazionale, che cosa? Certi tipi di argomenti che meritano approfondimento. Quindi il nostro progetto editoriale, che è nato nel 2012, si chiama appunto Nessun dogma libri per menti libere, offre in questo momento 40 libri che spaziano da testi che non erano stati tradotti in italiano e che già abbiamo pensato noi perché sennò nessun altro ci pensava e che circolano quindi nel nostro paese, a anche testi che invece parlano alle persone e anche ai genitori e ai bambini, perché abbiamo fatto anche dei testi per bambini. Posso citare gli ultimi quattro libri che uno è, il quarto ultimo è Filosofare con i bambini a scuola si può, quindi introdurre e spiegare agli insegnanti in particolare come si può fare la filosofia con i bambini come materia che può essere anche alternativa all'ora di religione, ad esempio un progetto. Poi abbiamo pubblicato in Italia Il vento fra i capelli che è della attivista iraniana Mashi Alinejad che si batte per la libertà di non essere costrette a indossare il velo che è un simbolo di oppressione in particolare della Repubblica. Cioè vabbè addirittura portano tuniche dalla testa ai piedi in Arabia dove sono coperte integralmente. Ma soprattutto le repressioni che ci sono se ci si azzarda a mostrare. E poi è dell'ultima notizia, non so se sarei a conoscenza, Erdogan, la Turchia è uscita fuori dalla convenzione di Istanbul del 2019 penso dell'undici, per tutelare le donne e quindi contro la violenza sulle donne. La Turchia ne è fuori. Erdogan io lo considero uno psicopatico perché secondo me vuole ripristinare un impero ottomano che non si farà mai. Sì, parla soprattutto la pancia degli integralisti. Infatti è uscita la Turchia dalla convenzione di Istanbul sulla protezione dei diritti delle donne, così come ha fatto la Polonia. Anche la Polonia è uscita. Sono entrambi stati che... La Polonia cattolica è uscita. La Polonia cattolica è uscita. Cattolica cattolica integralista. Perché questa è la verità. Da un lato l'integralismo cattolico dall'altro l'integralismo musulmano sono usciti dalla convenzione di protezione delle donne. E quindi sì, tornando al punto, il nostro libro ha proprio voluto puntare a quello di Mashi Alinejad all'obbligo del velo alle condizioni delle donne in Iran, ma avevamo già pubblicato anche Blasfemo che invece è una testimonianza di un ateo palestinese dove appunto era stato incarcerato e torturato e dovuto fuggire all'estero perché nei territori palestinesi era appunto discriminato in quanto diceva semplicemente di non credere. Volevo uscire dall'Islam. Accendo solo al fatto che il nostro progetto editoriale ha recentemente istituito una collana, la collana Iura, che si occupa in particolare di testi specialistici nell'ambito quindi del diritto e il diritto di non credere. Il nostro libro pubblicato il più recente è appunto il codice europeo della libertà di non credere a cura di, scritto da Silvia Valdassarri, un'assegnista di ricerca all'Università di Firenze per cui abbiamo sovvenzionato noi la borsa di ricerca. Poi c'è anche appunto oltre al progetto editoriale anche una rivista che è edita dal 2020 che si chiama Anch'essa nessun dogma con un sottotitolo Agire laico per un mondo più umano che presenta ogni due mesi 60 pagine che parlano di laicità tanto parlano di laicità della nostra associazione di scienza e di cultura. Posso mostrare questo è l'ultimo numero diciamo distribuito che mette appunto in prima pagina metteva in prima pagina i diritti delle donne ma mette anche allusoria ma simpatica certo ma mette anche la libertà di espressione qui è dedicato al caso in Francia del professor Patin che è stato decapitato per una sorta di aveva addirittura osato insegnare affrontare il problema della libertà di espressione in un liceo nella scuola superiore francese ed è stato decapitato per una sorta di omertà e e mafia che ha portato un esaltato poi a decapitarlo perché aveva usato parlare di Islam questi sono appunto i contributi che cerchiamo di offrire per chi vuole approfondire con un approccio laico e ragionevole tanti temi che non vengono trattati approfonditamente comunque ormai il tempo abbiamo passato quasi un'ora siamo già oltre il limite non si è contro ma si è soltanto a favore dei propri diritti e delle proprie esigenze questo è tutto da quello che ho capito segretario rimaniamo d'accordo che ci sentiamo faremo degli altri incontri sarei disponibile d'accordo se vuole aggiungere giusto un'ultima frase ma proprio breve e poi salutiamo ringrazio e il saluto è fatto ribadendo che difendere e affermare la laicità non è combattere per i propri diritti ma per i diritti di tutti perché tutti ne guadagniamo se abbiamo una società che rispetta i diritti di tutti e tratta tutti la stessa maniera io ringrazio il segretario del UAR Roberto Grendene esatto per la seconda volta ha azzeccato l'accento tonico da Luigi Pistone per Radio Noffe e tutto se il segretario vuole salutare gli lascio qualche secondo anche a lui di nuovo rinnovo i saluti ringrazio per lo spazio concesso anche perché diciamocelo in questo paese la RAI il servizio pubblico dà tanto tantissimo spazio alla Regione al Papa apri i telegiornali ma ben poco spazio anzi praticamente zero a chi ha delle posizioni ate agnostiche e si batte per la laicità dello Stato allora rivederci a tutti e penso che da qui a una ventina di giorni avremo modo di risentirci e rivederci buona giornata a tutti grazie grazie grazie